Salve, sono Gabriel Forlini, ho 18 anni, sono nato il 31 gennaio 1997 ad Albenga. Frequento l'istituto alberghier d'Arasio, il quarto anno del corso di cucina. Ho fatto delle esperienze lavorative nella zona, ovvero nel ristorante La Locanda dell'Asino e al Grand Hotel. Inoltre ho partecipato al gruppo Sardor 2014. Parlo inglese, italiano, francese e portoghese e mi piacerebbe essere scelto come candidato all'Expo perché è una bella opportunità.